Buon pomeriggio per l'Africa e l'Europa, buongiorno alle Americhe, buona serata ai colleghi dell'India, ai colleghi asiatici e soprattutto quasi un buonanotte ai colleghi dell'Oceania perché abbiamo quattro continenti collegati. La partecipazione di 114 allievi di 18 paesi di quattro continenti è indice della importanza che nel mondo ha questa Summer School. Un terremoto colpisce i muri, colpisce le chiese, colpisce i monumenti, ma colpendo quelli colpisce anche la memoria, colpisce le comunità. Abbiamo l'Armenia, abbiamo il Brasile, la Francia, la Cina, l'Ecuador, l'India, la Spagna, la Turca, la Slovina. Tutta questa istituzione, tutta questa scuola, ha dato la dimensione di questa cooperazione in questa scuola. Valore aggiunto, insomma, di questo ampio partenariato che vede coinvolte non solo le università della regione, appunto Ferrara, Modena e Reggio insieme a Parma, ma anche tutta una serie di istituzioni regionali e internazionali. Un'occasione come questa che porta su un piatto d'argento un confronto nazionale e internazionale. progetti che hanno messo al centro l'attenzione, appunto, su i beni culturali e soprattutto le comunità ferite dal sisma. La diversità è un valore aggiunto, quindi sarà interessante sapere come un gruppo specifico creato di diversi persone con diversi backgroundi è potuto creare una strategia comunale per cercare la diversità. Il tema principale della scuola summer è l'opportunità di internazionamento di rischio, la cultura e la cultura. La scuola è un momento focalizzato, ma hai più tempo per ottenere le idee più maturi. La summer è uno stimolo, non è un master, non è una formazione verticale. è uno stimolo orizzontale, molto dinamico e creativo. Perché crediamo che questo sia il modo migliore per affrontare il futuro. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti. Buonasera. Buonasera a tutti voi, buona serata e buon lavoro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.